Dallo scarto di lana che cosa possiamo ottenere? È un progetto assolutamente innovativo? Sì, è un progetto innovativo perché dagli scarti di lana possono essere trattati con un processo di idrolisi verde e trasformati in un fertilizzante organico adatto all'agricoltura biologica. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo fertilizzante? Allora, questo tipo di fertilizzante si pone in alternativa ad un fertilizzante chimico e dagli analisi abbiamo capito che è un fertilizzante che è ricco di biostimolanti, è ricco di azoto, di carbonio che sono gli elementi essenziali per il nutrimento delle piante. È efficace quanto un fertilizzante chimico che naturalmente la scienza negli anni ha dimostrato assolutamente dannoso per la nostra salute? Allora, dai primi risultati che sono stati fatte delle prove in laboratorio, poi delle prove in vaso e attualmente stiamo facendo delle prove in campo di sperimentazione perciò del fertilizzante su piccoli frutti e su fitte, si stanno ottenendo dei buoni risultati. Certamente bisognerà aspettare a settembre-ottobre perché siamo adesso in una fase di concimazione e vedremo appunto i risultati comparandoli a dei fertilizzanti chimici. Una grossa fetta delle risorse comunitarie nei prossimi anni, sta dentro la strategia dell'innovazione che è stata presentata un paio di settimane fa al Dipartimento regionale e mette assieme sia il sistema delle piccole imprese tradizionali, sia le piccole e medie imprese del campo dell'agricoltura e beni culturali, del turismo, inducendo loro a processi di innovazione, di processo, di prodotto, di relazioni, di marketing per renderle competitive nel mercato. Noi dobbiamo intercettare sempre più fondi e esperienze per far crescere anche il livello culturale delle nostre imprese e per convincerle che tutto ciò è possibile. Pensare di poter utilizzare anche lo scarto della lana fa riflettere, cioè dovremmo forse ripensare a quei vecchi mestieri come l'allevamento, dall'allevamento si possono ricavare davvero tantissimi prodotti. Innovazione, ricerca e artigianato si fondono assieme. La logica ovviamente sta nel recupero dei prodotti di scarto, quello che si faceva storicamente in maniera usuale, oggi invece diventa di carattere innovativo, trovando proprio nei prodotti di scarto elementi di alta qualità. Questo è il caso dell'utilizzo delle lane di scarto, che sono dei fertilizzanti ovviamente trattati con dei processi non chimici, quindi biologici, dei fertilizzanti ad alto valore aggiunto, con dei biostimolanti atti ad accelerare i processi di fertilizzazione nelle colture. L'ottica dell'amministrazione è incentivare e sostenere tutte quelle che sono le attività in cui la ricerca e l'innovazione si fondano con le attività produttive per cercare di cambiare e segnare il passo del cambiamento in un territorio che ha bisogno di rinnovarsi, di innovarsi in maniera rapida e costante.